Scelte processuali diverse per i cinque tifosi dell'Akragas finiti nei guai per gli incidenti con la polizia che si scatenarono all'esterno dello stadio Esseneto di Agrigento dopo il match di Coppa Italia tra Akragas e Profavara dello scorso 28 agosto. In tre hanno infatti chiesto la messa alla prova e quindi la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per un determinato periodo, al termine del quale, qualora abbiano dato prova di un reale percorso di reinserimento, il procedimento penale verrebbe dichiarato restinto senza conseguenze sulla fedina penale. Un quarto imputato è invece chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e quindi sulla base di quanto al momento contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, mentre il quinto procederà regolarmente in ordinario con il dibattimento. I cinque tifosi sono finiti a processo per direttissima con l'udienza che si è aperta davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano subito dopo la convalida degli arresti. Lo scorso 28 agosto, secondo la ricostruzione investigativa, i poliziotti che svolgevano il servizio d'ordine all'esterno dello stadio vennero bersagliati da un lancio di sassi e bottiglie di vetro, mentre cercavano di impedire contatti ravvicinati tra la tifoseria grigentina e quella favarese. Tre poliziotti rimasero feriti e nei giorni successivi vennero eseguiti sette arresti ed emanati nove d'aspo. Le prossime udienze sono fissate per il 22 e il 29 settembre. Grazie a tutti.